Musica Ecco che sto filmando Sì Si parla così Si parla così Ma te Quella discute Guarda Stavo insegnando Comunque se la passa qui Poi bisogna andare Verò Non sapete niente dove siete C'è 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 Ah Vabbè Sto caldo? No Caldo Non è caldo Non ce l'hai abbastanza caldo E poi c'è E poi c'è Sì Sto per perdere Non c'è Non c'è Ma Non c'è Ma Non c'è Magari non si dice alcun Sì No Che ti dici? Oh Stai zitto Per favore Si Stai Non c'è Non c'è Un 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 Noi, non so, se lo metti dentro una ricetta, dovrebbe essere abbastanza semplice. Sì, vado a vedere su, su, la preparata allora, vado mai, oggi inviato, oggi inviato, vado un attimo da Vincenzo. Chi è Vincenzo? Tocca a voi adesso, mi dà? Sì, dopo. Sì, ma ce la faccio, prendi il mio documento e tu la faccio. Fa la mia saluta. Sa dov'è? Sa cosa è, lo scelgo. Sì, c'è un altro signore, lei è in 5 e mezzo. No, no, scherzi, no! No, no, scherzi, no! Grazie. 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 Grazie per la visione!